cari amici faccio bene ringrazio di cuore i dirigenti scolastici dei nostri istituti presenti sul territorio della nostra scolaria di Castellaparte Cilento per la disponibilità che hanno dato nell'accoglio a questa proposta di vivere un vero e più di una storia ringrazio i docenti quanti hanno realizzato il video che è venuto a vedere i ragazzi chiaramente in modo particolare insieme ai genitori è un modo questo per vivere questo Natale insieme aspettando il Natale abbiamo voluto, Opronia ha voluto proporre questa iniziativa per sentirci ancora insieme in un contesto in cui siamo chiamati a vivere a distanza ma solo insieme possiamo scorgere la presenza dell'incarnazione di Cristo nella nostra vita, nella nostra storia e in questa storia, in questo momento particolare che stiamo vivendo allora auguro a ciascuno di noi, ai dirigenti, ai docenti, ai ragazzi, alle famiglie auguro di cuore di scorgere Dio anche oggi, qui, adesso, in questo momento, nella mia vita, nella nostra vita, nella nostra storia auguri buon Natale! abbiamo consapevolezza del fatto che il prossimo Natale sarà un Natale diverso ma noi dobbiamo vivere in modo più spensierato questi giorni la magia del Natale non può e non deve scomparire ognuno di noi si deve impegnare e deve donare speranza a chi ne ha bisogno ricordiamo tutti le parole di Papa Francesco la vita non serve se non ci serve cerchiamo dunque di portare un po' di serenità nell'animo di cui ci circonda auguro a tutti voi che la gioia possa fare da contorno alle prossime festività buon Natale e tanti cari auguri il Natale è per sempre non soltanto per un giorno l'amare il bene il bene il bene che fai per gli altri il bene che fai per te stesso anche se quest'anno non sarà il solito Natale sarà il Natale della vita auguri di buon Natale e felice l'ambra nuovo auguri di buon Natale e che sia un Natale pieno di gioia e serenità per tutti le cose più belle della vita non si trovano sotto l'albero ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali tanti auguri da me e Argo i cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma sentono con il cuore buon Natale a tutti di cuore un sorriso in questi nonni una telefonata ad un amico una parola gentile regaliamoci questo per Natale auguri a tutti non esiste dono migliore di un sorriso da donare auguri di buon Natale Dio della pace dono di pace per l'intera umanità viene a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia anche se diverso è sempre Natale i miei auguri con un pensiero di Gianni Rodale se ci diamo la mano i miracoli si faranno e i giorni di Natale te lo avrete tutto l'anno a Natale l'amore può trionfare apri il tuo cuore e lascialo andare buon Natale e non smetteremo mai di sognare a Natale fritto e fame a Natale con i tuoi a Pasqua con chi vuoi Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per un buon Natale e un anno più fortunato. Un momento particolare. Mi auguri per tutti voi saranno diversi ma speciali. Lontano soltanto fisicamente ma con cuore e mente vicini appassionatamente. Auguro a tutti tanta gioia e felicità e in particolare tanta serenità. Che sia davvero un Natale per tutti speciale ma soprattutto normale. Buon Natale! Natale 2020. Lontano fisicamente ma vicino e virtualmente. Auguro con tutto il cuore pace, gioia e amore. Auguri! Natale è l'amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che ritorniamo. È Natale! Lettera Babbo Natale. Caro Babbo Natale, tutti gli anni ti ho sempre chiesto un regalo. Un giocattolo ovviamente. Ma quest'anno ti chiedo di venire da me con il tuo sacco vuoto per metterci dentro questo strano 2020. E di portarlo con te al Polo Nord. Mi raccomando, arrivato lì, distruggilo in fretta e cominci a fabbricarne uno più bello. Con il disco di essere banale auguro a tutti un buon Natale. Com'è bello Natale! Alla sera la vigilia è tutta un'allegria per nascere Gesù. La tavola affarecchiata, l'albero alluminato e il presepio è scascutato perché a metà notte c'è la piccola. Lo cuore mio vi auguro a tutti un buon Natale. Grazie a tutti! A Natale l'amore può trionfare. Apre il tuo cuore e lascialo andare. Buon Natale e non smettere mai di sognare. A Natale puoi fare tutto quello che non puoi fare mai. Riprendere, giocare e riprendere a sognare. Buon Natale! Asciugati sul bambino le lacrime dei bambini e spingi gli uomini a deporre le albe per un felice Natale. Il momento di più bello di Natale non è quando si scartano i reali, ma quando condivideremo c'è l'aspetto a chi vuole bene e a chi vuole bene. Chi sta per a Natale volersi bene? A Natale non importa cosa trovi sotto all'albero, ma chi trovi intorno. Non è un periodo facile, ma tutti insieme riusciremo più forti di prima. Vi auguro un felice Natale a tutti voi! Quest'anno il regolo che voglio per Natale non si trova in nessun negozio. È la salute, l'amore e la serenità per tutti. Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L'amare, il condividere, il dare, il bene che fai per gli altri, il bene che fai per te stesso. Anche se quest'anno non sarà il solito Natale, sarà il Natale della vita. Ho nel cuore un desiderio, vorrei che il Natale arrivasse davvero, riempisse il cuore di felicità, parole gentili, amore e biondà. Ciao a tutti, io sono Marina, voglio augurare a tutti un buon Natale, Feliz Navidad, Merry Christmas e un Buon Natale. Speriamo che questo video sparsi presto, che possiamo tornare a scuola, a giocare e a stare tutti insieme. È Natale, non tengo a rionare, mi fumo una pipa e mi vado a cucca. È Natale ogni volta che facciamo nascere l'amore nei nostri cuori. Buon Natale a tutti! È Natale ogni volta che facciamo nascere l'amore nei nostri cuori. Buon Natale! La luce del Santo Natale possa riaccendere la speranza nei cuori di morti ed aprire le mie piante. Ti auguri! Le cose più belle non si trovano sotto l'albero, ma nel cuore delle persone che ti stanno accanto. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.